E' stata la nuovissima cornice dell'Auditorium Scavolini ad ospitare le celebrazioni pesaresi del 172esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Una polizia pesarese che nell'occasione ha tracciato un bilancio su un anno di attività intensificatosi in linea all'elezione di Pesaro allo status di capitale della cultura. E' infatti cresciuto del 10% l'impiego di pattuglie sul territorio e del 15% i controlli. Attività che fra i vari numeri si declinano nei 36 arresti e 120 denunce in Stato di Libertà da parte della squadra mobile con 12 misure cautelari relative ai reati di Codice Rosso. Un'attività trasversale a più ambiti tra i quali l'impegno nel settore immigrazione, le truffe e reati predatori, l'attenzione specifica allo spaccio di stupefacenti nell'area gravitante attorno al Parco Miralfiore con le positive conclusioni di indagini su bande albanesi e italo-venezuelane. Come ho voluto fare iniziando proprio nel ringraziare chi talvolta non si percepisce neanche che lavori per la nostra sicurezza, perché noi guardiamo le volanti, la squadra mobile fa le grandi operazioni, il reparto mobile va allo stadio, però diciamo che la nostra è una struttura complessa che ha il bisogno del lavoro di tutti, più o meno visibile e che noi tutti il giorno diamo il massimo di quello che possiamo dare. Non sempre riusciamo a ottenere tutti gli ottimi risultati che vorremmo, però non può mai essere messa in discussione la grandissima dedizione. I valori fondamentali e fondanti della Polizia di Stato sono emersi in tutta la loro meraviglia, in tutta la loro importanza. Quindi ringrazio il questore per l'attività e per l'opera che svolge quotidianamente, ringrazio tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e noi cittadini, grazie a loro ci sentiamo sicuramente più sicuri a casa nostra. Grazie. Il coro del Grillo d'Oro ha accompagnato musicalmente una cerimonia inserita nel solco del tema Esserci sempre. Nell'occasione il questore Francesca Montereali e il prefetto Emanuela Saveria Greco hanno premiato con encomi, promozioni e lodi gli operatori distintisi per merito di servizio Giuseppe Sepede, Vincenzo Ciavarella, Agnello De Rosa, Roberto Sonnante, Patrick De Luca, Emanuele Ranaldi, Vincenzo Scimone, Luigi Cerrone, Enrico Severa e Luca Vitali. Così come sono stati premiati con pergamene i cittadini distintisi per segnalazioni e comportamenti di spiccato senso civico. Ringraziamenti al presente così come al sacrificio dei caduti per l'ordine pubblico al quale il questore ha rivolto il proprio pensiero. Noi abbiamo sempre nella nostra mente i nostri caduti, che non sono solo i caduti dell'epoca del terrorismo, che quelli forse uccisi dalla mafia, che forse è più facile ricordarli, ma soprattutto la polizia stradale paga un altissimo tributo di vite umane perché il nostro lavoro non sembra, ma veramente a volte ha elementi di rischio che forse altri non percepiscono. Quindi il nostro primo pensiero è sempre alle nostre vittime. Grazie. 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 Grazie.